Ah, io mi risponavo, sei lì davvero? Esatto. E stai per consegnare un telegramma cantato. Un telegramma cantato, sì. E lo fai di tema a tempo pieno questo lavoro? No, lo faccio quando ho tempo libero, perché normalmente faccio la studentessa ad architettura, però mi piace così tanto. Sì? E faccio più telegrammi cantati che sono. Ho capito. E da quando lo fai? Da quattro ore, da tanto tempo. Ho capito, faccio... E ho visto che qui c'è un costumino... Un costumino? Un segreto. Buongiorno, buongiorno. C'è lei, Francesco? Sì, sì. Io sono il portale che ha mai cantato, sono venuta qua per festeggiare la sua laurea. Si metta qui, calma, do il fermo. Non si preoccupi, eh. C'è lei, Francesco? Non si preoccupi, calma, do il fermo. Dopo anni di duro studio, ecco la laurea e il tuo tripudio. Caro Francesco, per te sono arrivata, in questa casa ti ho trovato. Questo augurio ti è dedicato dal tuo papà, emozionato. Che per anni ha sognato il tuo rivol dottorato. Piacere anche se... Complimento. Grazie. Leonardo, ogni venerdì in edicola con la stampa. Grazie. Grazie.